bella ragazzi io sono machi robbie qui allora proseguiamo il nostro cammino nelle terre devastate stiamo recuperando i medaglioni stiamo recuperando medaglioni che servono al mago per fare qualche rito stanno e poi c'è una maestro da un murlo sal fiasco a medaglione dove non mi segna qui non parlare a parlare con lui non lo si mandano troppo in là quindi io tornero indietro prima mago ci fa camminare è tutta una passeggia no guardate come saldo bene guarda sembra pippo adesso noi intanto che livello siamo siamo a livello 56 ci mancano due livelli possiamo andarcene bene molto bene attenzione un raro eh te l'ho detto dov'è dov'è pialo 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 ma no vai pialo come no 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 bello no 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 schifo oh c'era questo ma quello trago falco esatto ah ma dobbiamo andare dentro la caverna no? sì 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 tutti dentro andiamo dal cavolo dooo aspetta ok allora lo metto ok allora lo metto e quindi dobbiamo uscire di nuovo abbiamo poco tempo corri perchè c'è un cadavere fuori 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 attento che stare avendo un gatto dentro lì dfg ok e andiamo a sinistra no dobbiamo andare a fare rituale abbiamo poco tempo tutti giù c'è un raro che pattuglia la zona ok questa c'è beh si attima anche con la qua ma hai visto dai che stanno i maiali che ti vogliono incontrare qui c'è una chimera o c'è un dragoraro c'è un dragoraro il divoratore questo qua era forte va adesso lo picchio eh come è steremo e qua e qua eh quanto rencia ah comunque quello è il portale per le auto ma qui sembra piccolo ma in realtà bello bro si è quella che avete visto nel film ragazzi l'hai trovata la sfera? aspetta aspetta non ho trovato niente ti aspetta fermo fermo no c'è la gara fermo ti te la do aspetta fermo ma cos'è? asfera ma che miseria? dove commercio? ti danno a questa ma chi ne la sedessi? c'erano due no gatti no lascia niente del cristallo mi ricordo che c'era una questione che devi con l'orda a spiare i piani della guerra dell'elli, è impossibile è vero ti beccava a te penso che ci sarà anche qui qui si incomincia a parlare di demoni, legione e tutte qualsiasi e mi piace questo fatto io piglio e tutte le cose che stanno qua qua su cui era una power ranger ma quindi l'elli non entra in quella minerali ma veramente ciò la stiamo schivando sai quella da ciò cominciamo a ammazzare di demoni qua cominciamo a ammazzare un po' di scena c'è sono delle uova di cose di orinitorino e come al solito si sta andando già in culonia io ho sceguo i seguiti ma questi anni sono andati a picconare e un giro scrive buongiorno gilda e sono tipo le quattro pomeriggio vabbè si è ricafato la notte brava ma lo siamo 56 non ti dobbiamo dicendo in due secondi ragazzi ma ti diventa buono ho fatto un rotolamento questo inferno diventato una pallina dove sei? sta' zitto non siamo solito con gli se sei cecato non è colpa mia dall'altra parte c'è da prendere piccoli ah qui dietro c'è la zona tutta verde strambissima della ricorda no qui dietro però c'è lo dice sono un sacco di mondo che vanno tipo a rire scusate chi nagai hanno schiavizzati di brutto di ma va bene questo vince gugi qua comunque ci stiamo avvicinando alle outruns perchè stiamo combattendo i demoni che sono fuoriusciti dal portale che tu puoi evocare le cicciofastricce qua ma quello verde si ma 10 minuti di recupero eh appunto usalo così a casa è un bello ci sta buttalo via buttalo quando so quello li così lo ammazziamo ma chi? tutto qui ma io non sono li eh ma c'è un bosco ah l'abbiamo già fatto quello? no non è il cane gigante no questo è uno scena sì mai devo piccolare a 2.24 fuori l'interzo qui è quello di scena non hai comando da monito ma che cacchia se quanti abilità ciò che non sarò mai usiamo su uno di questi ma non ci penso io sono un modo htp stai piccolando no ma dove stai? cioè guardate nella mappa e io ti ho detto vieni qua c'è la torre dentro di noi ma capito ma dillo che per una quest eh certo l'ho detto non mi riusciamo da uccidere non mi riusciamo da uccidere non mi riusciamo da uccidere alla torta eh io come faccio sei già morto ma eh non te l'ha dato eh no eh in colonia ah no ma no ce l'ho già fatto intorno a dove erano fatto perdere il tempo inutile ragazzo qui c'è un cimitero mi son perso è matica a perderti non trovo il coso a mio questo ma che cazzo ma stai se mi ruba a me la roba mio perché fico mi raccoglio e attacca la scivata cosa io devo piccare andiamo andiamo attaccare la scema l'alleanza no e c'è quella come si chiama parla bene shivarra lì shivana si da uccidere dove qua questa qui tutta a nulla ma che andiamo a me ah quale lì è pieno legend di quella eh in legend Illidan si servirà anche di loro come ah io non ho capito un cazzo di legend ti dirò perché cioè tu prima qualche video fa parlavi che Illidan è buono tipo chiaro non so se è buono però ma non ha senso come fa ad essere buono non è che è buono se lui vuole vuole conquistare tutto no non è che vuole conquistare tutto la legione demoniaca lui deve no e chi la comanda cioè lui comanda i demon hunter così però ci vogliono uccidere i demoni quindi io immagino che tipo orda alleanza chiederanno aiuto di Illidan per uccidere i demoni e quindi Illidan ha fatto tutta la sua congrega per uccidere gli altri demoni penso proprio di sì ma da dove sono usciti sti demoni scusa i demon hunter o c'è qualcosa i demoni cioè perché dovrebbe uccidere i demoni perché la legione infocata è arrivata sulla terra cioè in legend tipo la legione da portale di Draenor ma che roba vuolo bobo che non lo so beh cioè perché nell'ultima scena c'è Archimonde che fa un dropkick vabbè alla fine sì a parte quello però tipo i demoni ci sono c'è ci sono sempre alla fine quindi c'è una novità che ci siano dei demoni l'ho visto è mio è mio l'altro è mio il tipo che mi attacca che bravo e ho finito ok allora consigliamo tutto a questi giovani qua questo giovane braneo che vi dice madonna pesca esatto poi siamo da power ranger qua l'alleata che ci dice 92% ah i piani dell'oro no la qua è brutta ecco io non ho mai capito come adesso adesso qui dobbiamo essere molto furtivi ma basta che la prendi solo tu per prendere bene l'oro ma guarda che ho già fatto no pa che ci mette sei anni no ma giusto distraila distraila eh grazie sono stunnava sta arrivando lì ma no abbiamo un cavo zero ma va a cagare dai vai 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 subito subito che poi c'è io dico ma non ci vedono da qua aia ma è questa questa ma non mi sta qui allora aspetta mi devi non guardare che che giro fanno quei cosi adesso e io da dietro una cassa non è che da l'estudio ma perchè ti ferma no ok non è che ci uccidono no cosa posso fare io sono salita 56 io no allora quindi ma guarda dove è quello là ma dove è guarda il sindaco Chardon ma dove è è un villaggio di Warren secondo me Warren come ci si arriva e li cambia tutto vieni andiamo a morire si ma c'è anche una questa dal tipo del mago della caverna no no si ma non è che c'è scritto che c'è da prendere un flat point o un oggetto ma fa schifo tutto questo posto non ci credo che dobbiamo andare a PD finlandia fare e ci sconavigare tutto e quando eri ah non c'era anche un altro flat point eh appunto stanno queste murloc da fare andiamo no questo murloc fa schifo eh ci manca andiamo 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 eh peccato che se mi ha smontato porca vacca crediamo cosa ci dice io sto a 0% il 57 io sono a 94 eh sicuramente le questi li finiscono beh beh a me lo prendiamo e la fine è vicino oh gnammino dammi un pannino perché non funziona questo cazzo di cristallo guarda quanta gente ci ha caricato sopra in questi anni 60 milioni qua Giovanni qua pacco per Giovanni eh beh 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 ma che cazzo ma no ma no questo ci dice di trovare la testa il piedi il torace di quel coglione eh ha smembrato una persona ma si no vabbè citrullo no eh tu sai cosa si però aspetta decidiamo da farsi andrei giù sinceramente anche perché c'è un flight point ma giù che ho detto che ci sono da fare la queste murlo che dobbiamo circolare no 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 basta andare giù da sinistra si fa presto no 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 allora che è bello c'è sentiero eh ma devi andare a piedi si apriamo va bene gente io sono Maci io sono Roby e vi vediamo presto a prossimo video ciao